Grazie a tutti. Bene, quando l'associazione Emanuele mi ha chiesto cosa potevo fare per questa iniziativa, io non so fare altro che dipingere, ho fatto l'aliena, ma insomma. E parlando di Caravaggio mi è venuto in mente che negli anni 2000 avevo fatto un'opera dal titolo Un Angelo Caravaggio, un'opera a cui sono molto legato, si trova a Parma, c'era il mio medico e avevo ancora il bolseco originale. Allora l'ho tirato fuori, gli ho dato un'aggiustata ed è saltato fuori dopo la stampa. La stampa è accompagnata da un commento veramente bello di Giacomo che può servire pure alla sera come riflessione prima di addormentarsi, perché è veramente bello. La mia storia con Caravaggio, pensando ieri sera a quello che dovevo dire oggi, mi è tornata alla mente che io, pensate, sono nato a 300 metri dalla Cappelletta. La mia madre mi portava abitualmente tutti i giorni, ve lo diceva, mia madre era molto credente e mi ha abituato anche a me. Quindi, dopo siamo andati ad abitare sotto il ponte di Ferro, quindi vicino, e era percorso obbligatorio, venendo a Borgutaro, fare una deviazione. E poi con gli anni sono cresciuto, adolescente, con la mia passione per la pesca, ero sempre giù per il talo, a pescare, Stefano, la famosa anguilla che era sotto il ponte di San Rocco, che non mai nessuno ha pescato, quindi oramai deve essere diventato come il mostro di Locke, e quindi al ritorno facevo la mia deviazione per andare a fare un po' di riflessione. E chi ha costruito la Cappelletta, penso, non poteva trovare il luogo migliore, perché se ci pensate bene quanto si fa la deviazione, che si va su per il percorso tra i due muretti centenari, è come entrare in un'altra dimensione, veramente. E il luogo porta a riflettere e a stare un po' in piede per quei dieci minuti. Questo anche per persone non credenti, e si sa che tutti i giorni è molto visitante. Ecco, quindi teniamocela cara e cerchiamo col tempo di avvenire sempre di più, perché, credetemi, è una bellissima cosa. Io non so cosa avvenire di più, per me è stato bellissimo. Anzi, vi devo portare i saluti di Barbara Bercellini, se l'ho sentita oggi, se l'ho sentita oggi, se l'ho sentita oggi, se l'ho sentita oggi, e lei appena ha sentito questa cosa, ha detto, è il mio luogo del cuore. Il papà mi portava sempre, tutti i giorni, nelle nostre passeggiate estive, perché lui era molto devoto a questa madonna. Quindi lo è anche per noi ed è il nostro luogo del cuore, come lo è per tanti emigrati e quindi anche per noi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.